Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Binance e facciamo vedere come fare un bonifico SEPA dal vostro conto corrente al vostro Binance per poter quindi alimentare il vostro account, il vostro exchange Binance, per consentire quindi di comprare le vostre criptovalute. Come sapete, perché ne abbiamo parlato qualche giorno fa, Binance ha riattivato i bonifici SEPA soltanto qualche giorno fa, dopo che per tanti mesi, più o meno da luglio del 2021, non era possibile effettuare i bonifici SEPA. Di questa notizia ne ho parlato in questo video, Binance torna nei bonifici SEPA. Ti lascio il link qui in alto se ancora non lo hai visto, vi spieghiamo perché Binance è riuscita a riattivare i bonifici SEPA, mentre come dicevo poco fa, oggi vediamo effettivamente come farlo passaggio per passaggio visto che alcuni di voi mi hanno chiesto alcuni chiarimenti su alcuni campi. Come sempre ragazzi, prima di cominciare il video, questa è la playlist criptovalute e valute digitali del mio canale YouTube. Se ancora non l'hai fatto, ti chiedo di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video che faremo sul canale. Ovviamente ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Direi come sempre. Ora sigla e poi vediamo tutto. Siamo sulla home page di Binance e ora vediamo appunto come dobbiamo fare per depositare i nostri euro attraverso bonifico SEPA dal nostro conto corrente al nostro Binance. Dobbiamo andare su compra cripto. Io ho la versione in italiano però se ce l'avete in inglese cambia poco. Andiamo su deposita e a questo punto Binance ci chiede appunto cosa vogliamo depositare. In questo caso quello che vogliamo fare noi è spostare dei nostri euro, del nostro conto corrente italiano sul quale appunto abbiamo accreditare lo stipendio, abbiamo i nostri soldi e vogliamo appunto spostarlo su Binance. Scegliamo quindi bonifico bancario SEPA. Sapete che ci sono anche altre modalità tra cui carta bancaria ma in questo video noi vogliamo vedere appunto come fare con il bonifico bancario. A questo punto diamo la conferma. Dobbiamo semplicemente qui scegliere l'importo che faremo arrivare su Binance. In questo caso scegliamo di fare un piccolo bonifico di 25 euro. Tra l'altro per tutto il mese di marzo Binance ha confermato che i bonifici saranno senza commissioni. Quindi in questo caso in questo mese insomma è più conveniente anche se le fisi sono sempre molto basse appunto fare il bonifico. A questo punto vedete che lui vi carica 25 euro metodo del pagamento bonifico bancario. Fate continua. Questa è un alert che vi manda sempre lui. Dice che ovviamente ci deve essere concordanza tra i nomi dei conti correnti cioè del vostro conto corrente e il vostro Binance. Ovviamente non potete farlo da un conto non intestato a voi. Ovviamente includere il nome completo nella sezione di notte del bonifico bancario e ovviamente quindi queste sono cose da leggere importanti. Niente di più semplice. Questa è di fatto contiene tutte le informazioni che vi servono per il bonifico bonifico che dovete fare ora dal vostro conto corrente seguendo queste informazioni. Quindi utilizzando questo IBAN come appunto dove manderete i vostri soldi. Per quanto riguarda il riferimento che è la causale. Qui mi indica di inserire il mio nome ma a volte potrebbe indicarvi di inserire un codice alfanumerico. Ovviamente dipende da quello che vi fa vedere in questa schermata. Con queste informazioni appunto che vedete a schermo quello che dovete fare appunto è spostarvi sul vostro conto corrente. Io esempio OFINICO. Tra l'altro ho parlato di quali conti utilizzo per la mia operatività in questo video appunto dove compro cripto azioni nel 2022. Ti lascio il link qui in alto lo puoi guardare. Magari puoi prendere spunto anche per la tua operatività. Dicevo andare sul vostro conto corrente fate questo bonifico seguendo queste informazioni e in circa 1-2 giorni lavorativi riceverete la cifra sul vostro conto corrente anzi sul vostro exchange di Binance. Ovviamente una volta che poi avete ricevuto la liquidità su Binance avrete degli euro e da lì potrete decidere cosa farne se appunto comprare cripto valute o fare insomma altre operazioni che potete fare su questo exchange. Ovviamente ragazzi come sempre quando fate questa operazione consultate bene sempre quello che vi dà nella schermata tutte queste informazioni che vedete, le silver name, IBAN, nome della banca, appunto la causale tenete via queste direttive perché in questo modo non sbagliate. Se sbagliate qualcosa in realtà quello che succede è che i soldi vi ritornano sul conto corrente entro qualche giorno quindi non sparisce niente giusto per essere poi tranquilli. Ovviamente ragazzi come sempre fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate. Tra l'altro vi voglio segnalare anche, visto che ci avviciniamo al periodo della dichiarazione di redditi, questo tutorial che ho fatto, Binance, come fare report delle transazioni, che è quello il report che vi consente di avere le informazioni per inserire nella dichiarazione di redditi per quanto riguarda le cripto valute. Ovviamente se non l'hai ancora guardato questo tutorial ti consiglio di guardarlo perché può essere estremamente utile. Ti fa vedere come in pochi passaggi potete generare questo report direttamente da Binance. Dicevo quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è utile, se avete mai fatto un bonifico SEPA con Binance e se ovviamente vi può essere utile. Se ancora non l'avete fatto mi raccomando due cose, iscrivetevi al canale, lasciate anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Direi come sempre ragazzi quindi grazie per aver visto il video fino adesso e come sempre ci risentiamo nelle prossime giornate con nuovi video sempre per quanto riguarda le cripto valute, la finanza decentralizzata. Un abbraccio e a presto.